Allora usate il metodo per fare dei semplici calcoli, per esempio verificate che u y vettore u di x, cosa sarà? Come si fa? Si usa il metodo di Kramer, quindi u x, u y, u z, questa è la riga dei versori, nella seconda riga cosa si scrive? Si scrive la componente del primo vettore, chi sono le componenti di u y? E' 0 nella direzione x, 1 nella direzione y, 0 nella direzione z, quindi avete 0, 1, 0. Quali sono le componenti di u x? E' 1, 0, 0. E quindi fate uso della regola di Kramer ma con un po' di intelligenza, perché è evidente che se voi guardate per esempio chi è la componente x di questo vettore, cosa fate? Ovviamente dovete espandere per la prima riga, la riga dei versori, e va bene. Poi espandete qua, e guardate la sottomatrice, è questa qui no? Silenzio, quella sottomatrice la che determinante ha? 0! Lo si vede subito no? 1 per 0 è 0, e 0 per 0 è 0. dovreste accorgervi subito che l'unica sottomatrice, l'unica che non è 0 è questa qui. E questo lo si ottiene espandendo questo signore qua, quindi è u di z che moltiplica 0 per 0, meno 1 per 1. e quindi avete meno u di z. Se invece facevate u x u y, la prima riga dovete sempre scrivere i versori senza farvi domande, e la seconda e la terza che dovete chiedere chi sono le componenti. Che la componente di x è 1 nella direzione x? 0,0 perché è un versore che punta puramente nella direzione x, non ha componenti no? E' un versore che punta nella direzione x, lui è puro, è un versore puro. Zac! Direzione x ed è normalizzato 1, quindi è 1. Chi è questo? E' 0,1,0. Di nuovo, a vista, si vede che l'unica sottomatrice 2 che potreste fare qua, perché potreste fare questo, potreste fare questo, e potreste fare questo e questo. L'unica dei tre che ha determinati verso il 0 è questa che corrisponde all'aver espanso per u di z, e quindi vedete che è più u di z, perché è questo 1 per u. Quindi vedete che il regolo del cambio verrà subito quello che uno ci arriva o con contorsione del corpo o pensando alle permutazioni. Ecco un altro semplice esercizio, siccome prendete due vettori storti, mettetevi sul piano che loro identificano chiamato il piano x,y, la lavagna. Quindi questo è il vettore A e questo è il vettore B, il vettore A è all'angolo alfa e il vettore B è all'angolo beta. L'angolo z non c'è perché sono loro che individuano il piano e il piano x,y, quindi la componente z non ce l'hanno per costruzione, no? Quindi che componente x ha la A? L'abbiamo fatto questo l'altro giorno, questo cos'è? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa, no? Qui è la componente y? E' il modulo di A per il seno di alfa. Stessa cosa per B e il modulo di B per il coseno del suo angolo, che è beta, il cervello dice una cosa e la mano ne fa un'altra. attenzione, durante la pausa abbiamo segnalato che l'ultima riga aveva due errori, quindi questo è corretto, ok? Quindi guardate la differenza tra quello che voi avete scritto e questo che è la versione corretta. Oppure trovate la versione voi. E non venite a onorare, ma il professore è scritto così sul libro. Io non sono il papa, non sono infallibile, quindi voi non siete autorizzati a difendere la vostra risposta a uno scritto onorale invocando i miei appunti, o nemmeno il mio libro, o nemmeno il libro di un collega a meno che non sia il papa. Perché ci possono essere errori, quindi se voi imparate a memoriare un errore siete colpevoli, non potete scaricare la colpa a chi l'ha scritto. Non imparare mai a memoria le cose. Anche se fosse un premio nobel non vi autorizza a citarmi come fonte di qualsiasi cosa che io dico. come oracolato. Certo, ha detto Carlo Rubbia premio nobel. Va ascoltato ma non va preso per oracolato, perché non è oracolato. Può aver sbagliato. E' detto tra noi anche il papa può sbagliare. Però l'infallibilità del papa è un concetto recente, lo sapete? E' da quando, all'epoca del risorgimento no? 100 anni, 150 anni. Non è un concetto che fa parte della tradizione cattolica. Perché se lo sono inventato e voi lo sapete? Io no. Perché non era mia storia, anche se sono nemmeno le scese. Perché è stato inventato? Ce l'avevano con lo stato italiano perché avevano invaso lo stato pontificio? Come si chiama? Porta Pia? E' per quello? Eh, fate il prodotto vettore, coraggio! Usando regola di Hammer. Allora, A prodotto B. Allora cosa si fa? Determinante formale, prima rigola. Ux, uy, uz. L'ha fatto abbastanza grande perché vi dovete far stare dentro la roba, no? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa. Questo è il modulo di A per il seno di alfa. Questo è zero. Per costruzione, il modulo di B, il componente di B sono il modulo di B per il coseno di beta. Il modulo di B per il seno di beta. E per costruzione non ha la componente Z. Silenzio, sentirete il vostro rumore sui filmati. A vista, qual è l'unica componente che sopravviverà? Qual è l'unica componente che questo vettore avrà? sarà la componente Z. Quindi è l'unica che sopravviverà quando espandete lungo questo qua perché avrete una sottomatrice 2 per 2 che ha un determinante di essere zero. Vedete, dopo un po' di esperienza uno vede, quindi prima che lo faccia voi scrivete il risultato e meditate sul risultato. Sì, vedete? Mentre io per cielo guardo. Non aspettate ne. Anche perché potrei sbagliare, no? Se lo fate voi e poi trovate che io abbia fatto l'errore, potete vantare di aver trovato l'errore. Fatelo, coraggio. Cosa viene fuori? Viene fuori una forma che dovreste già aver visto perché l'abbiamo disposta. questo, per questo... ... 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 se la x è verso destra e la y verso l'alto la z dov'è? esce dalla lavagna! l'asse x,y,z stiamo usando la mano destra in questo corso, quindi z esce dalla lavagna se voi ciecamente fate il conto di questo vettore per questo, viene fuori fuori segno meno, cosa significa questo segno meno qua? che entra nella lavagna! quindi vedete che se fate il conto con calma con questa tecnica qua, non siete obbligati ad usare la mano destra per farvi venire le spalle doloranti eccetera, non siete obbligati a ricorrere alle permutazioni e alle varie, il conto ve lo da, vi da la direzione e vi da il modulo, qual'è il modulo di questo vettore? è il modulo di A per il modulo di B per inserire l'angolo, che è la famosa area del parallelogrammo giusto? parallelogramma o come si dice? ok? va bene? pronto vettore, ne siete responsabili quindi non osate di dire a un morale se queste cose non le sapete c'è una cosa che esito sempre a fare ma devo farlo? shhh! allora l'altro giorno, shhh! shhh! silenzio! abbiamo fatto il vettore velocità supponete che voi conoscete il vettore velocità e sapete in un certo istante dove si trova la particella quindi supponete, adesso io scriverò le componenti cartesiane le componenti cartesiane state silenzio ragazzi, si sente sulla telecamera questo obblosio la telecamera è molto più vicina a voi di me quindi quello che io sento avrà un certo volume la telecamera prende sul volume molto più forte è più vicina a voi quindi supponete che io vi do la componente x nella velocità in un certo istante vi do la componente y nella velocità in un certo istante vi do la componente z della velocità in un certo istante e supponete che io vi do anche la posizione nello stesso istante la posizione nello stesso istante la posizione z nello stesso istante Quindi queste sono le informazioni che voi vedete. Sapete dov'è e sapete la velocità, che è un vettore. Io vi chiedo dove sarà in un istante futuro? Allora, quale è questo? In generale abbiamo che il vettore velocità è la derivata del vettore posizione, quindi in particolare la velocità x è uguale alla derivata di x per spesso al tempo. Quindi se io vi dico che la velocità è questo, voi per un teorema di matematica sapete che se questo è il linguaggio delle derivate io riesco a legare x e la velocità in un altro modo, con linguaggio di integrale. Cioè se f di x è una funzione di matematica e questa è la sua derivata che chiamo, che so, f di x, che legame c'è? la posizione è la posizione, dunque qual'è la situazione? Questo è l'asse dei tempi, questo è l'istante t e io vi chiedo, lo chiamiamolo t1 va? Così è più semplice la notazione. Io conosco la posizione e la velocità nell'istante t1 e vi chiedo dove sarà che posizione avrà nell'istante 2. Voi cosa fate? Per la componente di x, per esempio, voi direte che la posizione x nell'istante t2 sarà uguale alla posizione che aveva nell'istante t1 più l'integrale della velocità pensata che è un professore del tempo, estesa tra l'istante t1 e l'istante t2. Questo dovresti sapere da analisi, non è fisico, questa è matematica. Perché è questa la relazione qui, questo lo devo dare per dato, se io spendo, se io giustifico ogni cosa che dico, imperiamo l'eternità. Qual'è la posizione nell'istante 2 nella direzione y? E' uguale alla posizione nell'istante t1, dov'era, più l'integrale di chi? della velocità nella direzione y, pensata alla posizione del tempo, tra l'istante t1 e l'istante t2. Qual'è la coordinata z nell'istante t2? E' uguale alla coordinata z nell'istante t1, dov'era all'inizio, più il contributo dell'integrare la velocità nella direzione z, pensando alla composizione del tempo, sto integrando il tempo, dall'istante t1 all'istante t2. Queste tre relazioni possono essere scritte in maniera molto compatta così, che la posizione nell'istante t2 è uguale al vettore posizione nell'istante t1, più un integrale che in realtà è di un vettore dall'istante t1 all'istante t2. Questa notazione cosa vuol dire? E' una notazione vettoriale, ho la coordinata x, velocità x, ho la coordinata y, velocità y e ho la coordinata z, velocità z. In generale, quando voi, in fisica avete una cosa del genere, vedremo per esempio che la forza introdurrò la quantità di moto, indicherò con la lettera p, che sarà la massa per la velocità. Allora, la forza, la scriverò così, la scriverò in un modo che non credo che abbiate visto, sarà la derivata della quantità di moto rispetto al tempo. Certo che se la massa è costante nel tempo, allora la derivata della quantità di moto rispetto al tempo, sarà la massa per la derivata della velocità rispetto al tempo, che è per l'accelerazione e riconoscerete la famosa formula f uguale ma. Questa sarà la scritta che useremo alla fisica. Allora, non appena io ho una relazione del genere, voi dovete subito pensare alla sua versione integrale, che è, per esempio scrivo la componente x, cosa sarà la versione x in linguaggio integrale? Questo è il linguaggio delle derivate, questo è il linguaggio degli integrali, sono associati a loro dal teorema fondamentale che lega le derivate e gli integrali. lo stesso teorema si applica là, se questo è il linguaggio delle derivate, vedete che sto guardando la componente x, mi raccomando, quale sarà la relazione che lega la componente x di p e la componente di f con il linguaggio degli integrali? Sarà che la px nell'istante t2 sarà uguale al valore che aveva all'inizio, più l'integrale di f pensata come funzione del tempo, sto integrando del tempo, tra l'istante t1 e l'istante t2. in futuro, meccanici, avremo una grandezza chiamata, come potrei scrivere? Avremo una grandezza chiamata, un aumento della qualità di moto, questo, vi dico anche cos'è, è m e r vettor p, quindi i meccanici devono conoscere il pronto vettoriale, vi dire l'ho appena detto, e scopriremo una specie di legge analoga alla legge di Newton, la legge di Newton dice che f uguale alla derivata di p rispetto al tempo, c'è un analogo per quanto concerne i movimenti rotatori, che i meccanici amano tanto, no? che sarà la derivata di L rispetto al tempo, sarà uguale a un momento torcente, questa è la legge di Newton nel contesto delle rotazioni, quindi, silenzio, non appena vedete una relazione del genere, voi dovete essere in grado subito di scriverlo con il linguaggio degli integrali, e cosa sarà? Per esempio, se vi chiedo di scrivere la componente X, sarebbe che la componente X del momento torcente è uguale alla derivata della componente X del momento a qualità di moto, e questa relazione con il linguaggio degli integrali cos'è? che è il momento che la L della componente X di L nell'istante T2 è uguale alla componente X nell'istante iniziale, quello che era, più l'integrale di cosa? di Tau, pensata come funzione del tempo, quindi integro nel tempo dall'istante T1 all'istante T2, guardate queste relazioni, questa qua proviene da dove? Da dove viene questo? Questo è il linguaggio integrale, e qual è il suo omologo scritto in linguaggio di derivate? è che la velocità nella direzione Z è uguale alla derivata di Z rispetto al tempo, questi due sono omologhi, sono uno e il linguaggio delle derivate, non forse approvo ma ora non è appropriato, lo sto usando in maniera variata forse, quello che sto dicendo è che questo lega la posizione e la velocità con il linguaggio delle derivate, questa lega la posizione e la velocità con il linguaggio degli integrali, sono espressioni che sono i lati opposti di una medaglia sola che è il teorema che lega le derivate in integrali, d'accordo? Questo teorema lo si usa dappertutto in fisica, questo è in cinematica, questo è nel concetto di forza, vedete? è lo stesso linguaggio, se la derivata di questo è questo, allora l'integrale di questo è quello, o anzi è meglio dire che l'integrale di questo è la variazione di quello, perché questi qua possono essere scritti così, usando il simbolo delta, quale scegliamo? tanto è la stessa matematica, quale scegliamo? questo, quello, 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 quale scegliamo? Usiamo la forza, tanto per abituarsi a usare questo concetto, questo mi sta dicendo che l'integrale della forza, pensata come funzione del tempo, dall'istante P1 all'istante P2, attenzione questo è un integrale strano, perché l'integrando è un vettore, cosa vuol dire? Che in realtà ho tre integrali, Fx, Fy, Fz, ma è una scrittura compatta, no? Cos'è questo? Questo è la variazione di P, giusto? Di quanto è variata la quantità di moto, nell'intervallo T1, T2, beh, è l'integrale della forza! Di quanto è variata la posizione di un vettore? Beh, è l'integrale ovviamente vettoriale, cioè sono in realtà tre vettori, della velocità! Da T1 a T2. Qual è la variazione della posizione? E' l'integrale della velocità! Qual è la variazione della velocità? Qual è la variazione della velocità? E' l'integrale di chi? E' l'accelerazione! Pensata come funzione del tempo! E' la stessa matematica, no? Per esempio, guardate, la variazione di x è uguale, sì, alla velocità, all'integrale della velocità, da T1 a T2, ma io posso, in qualche modo, così vi convincete, vedete come la notazione che sto usando già da due stitane, anche dal precorso, le notazioni di fisici, questa qua cos'è? vedete come mai la notazione è così carina? Oltre a ricordarci che la velocità, la derivata di x su tutto il tempo, è in fondo un rapporto incrementale, un delta x, un delta t, nel limite che deve scritta da zero, è anche carina perché scritta così voi capite subito questo, perché dalla vostra testolina voi fate trac, trac, e questo è l'integrale di dx, ovviamente la posizione nell'istante T1 alla posizione nell'istante T2 e questo è proprio questo, se volete usate il teorema in questo modo, quindi la variazione è uguale all'integrale della derivata, la velocità, ecco come i due linguaggi sono connessi, quindi se io vi dico che la velocità, per esempio il componente x è uguale, che so, facciamo a t più c, quindi quanto vale la velocità iniziale? Uso questa notazione qua, con il pendice zero, cioè sto dicendo che in questo intendo questo, questo quanto vale? Quando t è uguale a zero, la velocità vale c, no? Quindi questa in realtà la chiamiamo v zero, quindi in realtà la mia formula è questa, v di x come funzione del tempo, è uguale a a t più v zero, ok? D'accordo? E la a che senso ha? Abbiamo già fatto queste cose, a cos'è? Beh in fondo quando io faccio la derivata della velocità rispetto al tempo, ho l'accelerazione nella direzione x, e quindi questo mi dice che l'accelerazione vale a, e questo quindi è una costante del tempo, quindi perché non usare la notazione v x come funzione del tempo, è uguale all'accelerazione che è costante, moltiplicato per il tempo, per la velocità iniziale, più la velocità iniziale, giusto? Questo è un esercizio di senare, ok? Supponiamo che io conosco la posizione iniziale, e io vi dico che la posizione iniziale è x zero, cioè con questa notazione intendo x nell'istante più uguale a zero, e io vi chiedo, ok, vi do la velocità, vi do la posizione iniziale, dove si troverà nel futuro? Qual è x in funzione del tempo? Cosa fate? Questa è la posizione iniziale, questa è la velocità in funzione del tempo, a maggior ragione conoscete lo ciclo iniziale, dove si troverà in futuro? Cioè, chi sarà x in funzione del tempo? x in funzione del tempo sarà la posizione iniziale, più l'integrale della velocità. dall'istante iniziale, stiamo integrando nel tempo dall'istante iniziale, quindi chiamiamo t1 e lo chiamo zero, distante da zero, questo è l'istante t, perché voglio conoscere la posizione dell'istante t, qua scriverò la velocità, quindi l'integrando qui, sto integrando nel tempo, l'integrando è la velocità, che è questo, quindi scrivo questo ovviamente, notate che sto usando questi apici, quindi nel mio esercizio prendo questa espressione che viene dal mio esercizio, quindi questo lo sbatto qua, dove posso scrivere? Quindi sto riprendendo qui, va bene? quindi x di t è uguale al valore iniziale, più l'integrale della velocità, giusto? La variazione di x è uguale al valore iniziale, cioè scusatemi, la posizione di x è uguale a dov'era all'inizio, più l'integrale della derivata di x, cioè della velocità, giusto? bene, è questa espressione qua, a zero t, più v zero, pensate a come faccio del tempo, metto gli apicetti e sto integrando da zero a t, e questo è un integrale che sapete fare tutti in presumo, quindi questo è x zero, quindi ho l'integrale di una somma di funzioni, cos'è un integrale? L'integrale in ultima analisi è l'area di un rettangolo, questo rappresenta la base del rettangolo, questo rappresenta l'altezza del rettangolo, ma l'altezza del rettangolo è la somma di due contributi, quindi l'area del rettangolino di base delta t, può essere pensata come la somma di due rettangoli, uno è questo rettangolo qua, che ha la base delta t e ha l'altezza a zero t, più l'area di un altro rettangolo, che ha la stessa base ma ha l'altezza v zero, in ultima analisi, l'area del rettangolo è la somma dei due sottorettangoli, cioè ho appena dimostrato, senza scrivere una cosa, che c'è il teorema che l'integrale della somma di due sottorettangoli, delle funzioni uguali alla somma di due integrali, giusto? E quindi questo è l'integrale del primo pezzo, da zero a t, più l'integrale del secondo pezzo, ok? Faccio un po' di spazio, e questo lo dovevo cancellarlo, questo è il più semplice, no? E' l'integrale di una funzione costante, v zero, quindi, in funzione del tempo, l'integrando è la funzione v zero, quindi se io sto integrando dall'istante t, dall'istante zero all'istante generico t, a me interessa di integrare l'area di questo, questo è più stupido, no? Quindi, è la base, qual'è la base? E' t, per l'altezza che è v zero, quindi questo qui è semplicemente v zero t. questo cos'è? Questa è una funzione che invece è fatta così, l'integrando, quindi quando t uguale a zero, l'integrando è uguale a zero, quando varia linealmente il tempo, quindi ho un integrando che è così, quindi questo pezzo qui, questo pezzo qui, questa funzione di t, è quella roba là, quindi se io integro dall'istante t uguale a zero all'istante t generico, a me interessa questa area qui, che è un triangolo, la base del triangolo è t, per l'altezza quanto è? E' a zero t, e quindi l'area di questo, è uguale a un mezzo, è un triangolo, base per l'altezza, quindi a zero t quadro, quindi questo qui, è un mezzo a zero t quadro, e quindi deducete che la posizione iniziale, la posizione nell'istante t, è la posizione iniziale, più v zero, la velocità iniziale nella direzione x, cioè questo v zero qua, è in realtà la velocità iniziale nella direzione x, perché sto funzionando x, per progetto di notazione qua, diciamo così, sto parlando della direzione x, direzione y e z avrebbero magari, una legge oraria diversa, quindi metto i pendici x per ricordarmi, che questo è per quella che concerna al componente x, quindi questa è la velocità iniziale per t, più un mezzo a, l'accelerazione che è costante nella direzione x, di quadro, ok? Molto semplice giusto? tutto nasce dalla Verkhalov, questa formula qua, che sto lasciando, cancellando tutto il resto, ok? queste due formule vanno viste sempre assieme, cinematica è questa, questo è il linguaggio delle velocità, delle derivate, questo è il linguaggio degli integrali, e vi ricordo, che basta che voi mettiate qua, questa qui, che ecco che il teorema diventa evidente, ok? Perchè avete il dt che si elidono, e rimane l'integrale di dx, e l'integrale di dx complessivamente è il delta x, no? Quindi questo qua, va scritto da qualche parte sul vostro corpo, con inchiostro di delebre, fate un tatuaggio, però dovete essere pronti a scambiare, il simbolo qua, a seconda del contesto, dovete poter cambiare il simbolo qua, a seconda del contesto, non solo la varia, la sostituzione banale, che se mi interessa la componente y, metterei la y, e qua sarebbe y, ma anche nel senso che interemo qui, che qua se mettete la pi, qua ci andrà la f, se mettete la l, qua ci metterete la tau, e quella è la fisica, quindi, voi imparerete ben presto con me, come ho scritto là, che f è uguale alla derivata della quantità di moto rispetto al tempo, che tau è la derivata della momenta quantità rispetto al tempo, imparerete per esempio, che la derivata dell'energia cinetica, mancano dieci minuti, ma è estremamente importante quello che sto facendo, la derivata dell'energia cinetica rispetto al tempo, sarà uguale a un prodotto scalare f per v, dove scappa, che ovviamente vi devo ancora farlo in questi discorsi, è questo, silenzio, silenzio, sto rumore si sente, state zitti, vi sfido di scrivere il corrispettivo di questo con il linguaggio degli integrali, è facile, dovreste essersi grado di scriverlo, subito, prima che lo faccia io, vi vorrei tutti vedere sulla penna a scrivere, cosa sarà? Quale sarà il corrispondente di questo? Sarà che la variazione di k, perché questo cos'era? Se la derivata di x rispetto al tempo e la velocità, allora la variazione di x, se volete fate così meno, la variazione di x è uguale all'integrale della velocità, questo è il linguaggio che voi dovete subito saper ripetere, quindi lo stesso linguaggio qua è, che se la derivata di k rispetto al tempo è questa roba qua, e non vi ho detto ancora cos'è, ma io sto cercando di insegnarvi la matematica, allora la variazione di k, quindi k nell'istante t2, è uguale a k nell'istante t1, quindi k2-k1 è la variazione di k, cosa sarà uguale? k2 è uguale a k1 più l'integrale, nel tempo in questo caso, l'integrale nel tempo, di chi? di questo, da l'istante t1, è la stessa matematica, ma qualcosa in più, se io vi dico, che la forza, pensata come valore della posizione, usa una notazione unidimensionale, addirittura, e questo è uguale a meno la derivata di una strana funzione, che sarà la funzione di x, e io vi scrivo questo, voi subito dovreste essere in grado di esprimere una relazione in forma integrale, cosa sarà? è la stessa matematica, è la stessa matematica dei quadrati arancioni qua giù, quindi se io prendo questo, e lo circondo con un quadrato arancione, cosa scriverò qua sopra? con il linguaggio degli integrali, questo farà parte delle definizioni, quel segno meno, non fatevi ingannare da cose che... dovete guardare la matematica, il senso di queste equazioni, il senso fisico ve lo devo ancora dare, ma guardate la matematica, quale sarà il legame tra questa u e questa f, scritta in forma integrale, questa u per inciso, si chiamerà energia di posizione, chiamata anche energia potenziale, e questa sarà una forza che dipende dalla posizione, ci saranno forze molto speciali, per fortuna la natura è piena di forze fatte così, e sono chiamate forze conservative, qual è la relazione? La variazione di u, a parte il segno meno, sarà uguale all'integrale di f, non nel tempo ma in x, dovete guardare le variabili no? Quindi, sarà u nella posizione 2, sarà uguale a u nella posizione 1, meno, c'è questo segno meno, l'integrale di f, pensata come funzione di x, in dx, dalla posizione 1 alla posizione 2, è la stessa identica matematica, della cinematica che stiamo facendo in questi giorni, è la stessa matematica, quindi, siamo d'accordo? Credo che a questo punto ci conviene fermarci, abbiamo 5 minuti, in anticipo 3 ore oggi, mi raccomando, mi raccomando, dovete sapere il teorema che lega le derivate agli integrale, se questa è la funzione f di x, se questa è la funzione f di x, e qualcuno vi chiede, qual è l'area, delimitata dalla funzione, e dai valori x e b, x uguale a, x uguale b, e voi scrivete questa area così, questa è matematica, voi dovete sapere questo, che questo è uguale a f maiuscolo b, meno f maiuscolo a, dove questa f, chi è? è una funzione f di x, tale che quando la derivate rispetto a x, ottenete f di x, quindi, guardate questo, se f di x, è scritta così, allora questo signore, adesso sto scrivendo in questa direzione, è uguale alla derivata di f maiuscolo, in dx, in dx, e ovviamente gli estremi, adesso ovviamente per il momento è ancora così, e ovviamente che mentalmente voi fate trac, trac, e questo quindi è uguale, sto scrivendo come fanno in certi paesi, questo è f di x, sto integrando in df, da fa, a fb, e questo cos'è? questo è fb, meno fa, ok? Quindi questo è il teorema, che voi dovete conoscere, dal precorso, dal corso di analisi, e dovete saperlo applicare in fisica, eh? Trovate un modo per giustificarvelo, se la dimostrazione è complicata, vedete come la notazione vi aiuta a ricordarvi, perchè se f grande ha la proprietà che derivando, la vi restituisce da piccola, allora la mettete qui, eccetera eccetera eccetera, quindi l'enunciato deve essere molto chiaro, e dovete saperla applicarla, quasi occhi chiusi, avete mai sentito parlare di Pavlov? era uno psicologo, era uno scienziato, nella Russia degli anni 30, e fece un lavoro abbastanza importante, che è spesso citato, che si chiama il condizionamento, allora aveva un cane, dei cani, presumo che l'abbia fatto con diversi cani, e ogni volta che dava cibo al cane, suonava una campanellina, quindi quando il cane vedeva la bistecca, beh, nei russi degli anni non c'erano bistecche, c'erano cose molto misero, carne umana forse, quando dava la bisteccona al cane, salivava il cane, e c'era questa campanella che suonava, bistecca con campanella, salivazione, bistecca, campanella, salivazione, bistecca, campanella, salivazione, campanella, salivazione, appena il cane sentiva la campanella, associava l'arrivo della bistecca, e subito avveniva la salivazione, ecco, voi dovete essere quasi come i cani di Pavlov, appena vedete o questo o quello, dovete subito pensare all'altro, subito, subito, non dovete esitare, non sto scherzando, se io vi sparo questo, dovete subito pensare a quello, se io vi sparo questo, dovete subito pensare all'opposto, è la stessa matematica vista da due lati diversi, derivata e integrale, appena dovete avere voglia di scrivere questo, appena io scrivo questo, dovete avere voglia, salivazione di scrivere questo, non sto scherzando, agli orali non ho intenzione di rifare il concetto di matematica, li do per tati, quindi se uno non lo sa, vuol dire che non sa la fisica, e questo è il linguaggio della fisica, vi mando via non perché siete ignoranti in matematico, ma perché siete ignoranti in fisica, non si può parlare di fisica senza il linguaggio matematico, se non conoscete la matematica, è evidente che non conoscete la fisica, ci vediamo alle due.